Il nuovo regolamento antiprostituzione è pronto ma ora servono le risorse. Le strade fiore all'occhiello del turismo di Montesilvano di notte si trasformano in luoghi di contrattazione del sesso. Con la modifica dell'articolo 43 del regolamento la polizia locale e i carabinieri potranno intervenire sempre, sanzionando anche coloro che non rispettano il divieto di sosta e di fermata sul lungomare o chi semplicemente si apparta nel retro pineta. L'ammenda ammonta 450 euro. Un nuovo NAP, un nucleo antiprostituzione, un servizio che l'allora sindaco Francesco Maragno aveva messo in piedi nonostante le esigue risorse. Il comandante della municipale, Nicolino Casale, ha potuto vedere la squadra rinfocillata grazie al concorso scorso che è passata da 24 a 30 unità. Ma se consideriamo la legge regionale che fisse il numero degli agenti per Montesilvano a 77, siamo lontani dagli agenti auspicati. Con gli stagionali forse si arriverà a 37 unità. E per l'amministrazione De Martinis, che ha annunciato tolleranza zero e che mette al centro il decoro con tanto di ordinanze su come tenere addirittura le vetrine in via Roma, si tratta di capire come organizzare gli straordinari. Il rischio è vedere quegli stessi agenti che sono stati impiegati di giorno per fare le multe ai padroni indisciplinati dei cani, oltre che in compiti importanti come gli sgomberi di via Rimini, lavorare nei turni notturni in pineta. Il lavoro straordinario da svolgersi dalle 23 alle 2 del mattino ha un costo e sulle future assunzioni ci sarebbe una lista lunga di idoni, circa 62. Per fare due conti sul bilancio del comune, che per fortuna non ha problemi, si potrebbe ipotizzare da 6 a 7 mila euro, stando alla stima del comandante Nicolino Casale, da aggiungere al budget attuale del lavoro straordinario. Una cifra decorosa, avrebbe da dire, da poter spendere prima che la grande pescara possa in qualche modo rivedere conti e territori senza mettere in bilancio un servizio disciplinato da una norma.